ciao ciao a tutti benvenuti nel mio canale filati da sogno oggi volevo dare anche a voi un'idea su cosa realizzare di molto molto veloce molto molto veloce per fare dei regali di natale perché no un qualcosa un bordo pelliccioso o un cappuccio pelliccioso da fare veramente in poche ore ve lo mostro subito sul manichino che così almeno capite meglio di che cosa sto parlando ecco cosa si può realizzare ve lo faccio vedere qui perché ovviamente disteso sì sì al suo risultato ma secondo me qui lo vedete molto meglio che ve ne pare è un collo io ho fatto poi una culis che con una mano o un po di difficoltà a tirare però tirandola il collo si stringe vedete adesso ci sto provando e si stringe ecco questa può essere un'idea ragazze per fare dei regalini a natale io l'ho già fatto vedere sul gruppo e hanno apprezzato e ringrazio tutte le dolci creature del mio gruppo e però voi che non mi seguite sul gruppo questo non l'avete visto e quindi visto che è un progettino facile facile dopo vi spiego come farlo io l'ho realizzato con i ferri e ve lo propongo perché magari può essere un'idea perché in poche ore riuscite a farlo per per dei regali di natale dell'ultimo minuto ok e tra l'altro ho fatto anche un cappuccio vi mostro anche quello ed ecco la versione cappuccio allora il cappuccio come vedete io l'ho fatto in modo aspettate vediamo se riesco a farvelo vedere l'ho fatto in modo che mi coprisse bene qui la parte delle orecchie e questa parte cerchio è di farvi vedere questa parte va dietro si intreccia in modo tale da avere questo effetto sul viso ok così la mia treccia esce fuori di non mi dà fastidio e il mio ciuffo non rimane schiacciato in poche parole me lo sono adattato per me a dirla tutta è quello però ognuna di voi lo potrà adattare a suo piacere io penso che vada benissimo anche per dei bambini oltre che per delle signore come me no penso che può andar bene un po per tutti quindi questa è un'altra idea anche questa facilissima l'ho fatta in una sera quindi direi che può essere un'ottima idea per un regalo di natale ecco vi ho fatto vedere quindi che cosa si può realizzare sia il cappuccio che lo scaldacollo l'ho realizzato con un solo lotto questa l'ho presa nella versione color panna perché me ne voglio fare uno anche così scusate il rumore ecco quindi lo praticamente con uno di questi che sono 200 grammi ho realizzato il collo e con l'altro perché in un lotto ne trovate due e con l'altro realizzato il cappuccio e mi avanzato qualcosina quindi dipenderà poi da quanto grande o piccolo lo vorrete fare il cappuccio ok quindi questo è il la lambkin non riesco mai a pronunciarlo con scioltezza comunque vi lascio il link di questo filato pelliccioso perché è una meraviglia proprio sotto il nostro questo video ok ora però vi spiego come fare è inutile farvi il tutorial ho detto anche nel gruppo è inutile fare il tutorial per un progetto così facile sarebbe banale secondo me no quindi io vi spiego come potete farlo in modo tale che chi è interessato possa farlo senza problemi innanzitutto io ho montato 18 maglie ok sono 18 maglie con i ferri numero 8 e 18 maglie mi danno un'ampiezza di un'ampiezza di 26 centimetri con 18 maglie ok ho lavorato con i ferri numero 8 sempre solo dritto quindi il dritto del lavoro ho fatto una striscia lunga ora vi dico anche la lunghezza più o meno è perché io adesso mi calcolo la metà ecco sono 39 centimetri diciamo 40 80 centimetri di lunghezza ok questa stola diciamo 80 centimetri di lunghezza circa cosa fate poi quando arrivate alla fine chiudete le vostre 18 maglie e lo cucite semplicemente quindi io l'ho realizzato la cucitura è qui perché la sento con le dita ma a vederla non si vede lo cucite quindi ago e cucite la parte dietro ok semplicemente così quindi anche chi non non sa usare i ferri circolari ma soltanto i ferri rettilinei va benissimo questo non è fatto con i ferri circolari per fortuna è fatto con i ferri classici ok classici ma voi potete farli con tutti i ferri che volete quindi ripeto 18 maglie prendete 18 maglie e fate praticamente andate avanti sempre dritto non dritto e rovescio quindi maglia rasata ma solo e semplicemente maglia legaccio quindi sempre dritto e per la lunghezza che volete io ho fatto circa 80 centimetri ok poi ho chiuso cerchio e mi è venuto fuori questo bellissimo collo poi cosa ho fatto volevo una culisse è molto semplice la culisse l'ho fatta semplicemente con delle catenelle delle catenelle fate delle catenelle lunghe quanto voi volete ok io quindi ho fatto 80 centimetri più quello che mi avanza che sono 30 quindi sono circa un metro e mezzo avrò fatto circa di catenelle ok ma diventa poi troppo vedete voi magari lasciate aperta da una parte dall'altra infilate nel lago lo fate passare attraverso piano piano vedete non si vede non si vede proprio niente attraverso in modo tale vedete questo è l'effetto che fa si stringe io inizialmente avevo messo la culisse al centro poi però visto che io ho bisogno sempre di del collo molto molto caldo allora l'ho spostata l'ho tolto dal centro l'ho messo su in alto ma voi se volete potete metterla anche in centro in modo tale che vi faccia questo ecco che diventi così è bellissimo anche così che io lo metto così quando non c'è troppo freddo ma quando la sera vado in giro con le mie bimbe io lo tiro su in questa maniera poi tiro la mia culisse e io sono chiusa qui dentro ok quindi è facilissimo da fare ed è per quello che ci tenevo a fare un video anche a voi perché le mie amiche di gruppo come già detto sanno già di questa facilissima creazione però voi no e quindi ci tenevo a farlo vedere anche voi magari magari può interessarvi se non sbaglio in tre quattro ore l'ho fatto questo proprio va avanti da solo senza nessun problema ok fatto questo ma ho fatto anche questo questo un pochino più non è difficile da fare ma è un pochino più complesso da spiegare quindi magari qui vi farò un brevissimo tutorial in modo da da spiegarvi meglio come come partire e come riuscire a realizzare questo cappuccio ok magari in un altro video vi faccio un brevissimo proprio brevissimo brevissimo tutorial di questo perché anche questa è una bell'idea è una bella idea questa si può mettere anche piegata dietro insomma è una bella idea secondo me e questo filato tra l'altro che ripeto essere il lamb bin lambkin che non riesco mai a dirlo è un microfibra al centro per al cento per cento ogni gomitolone a 200 grammi e sono solo 100 metri in 200 grammi ok consigliano lotto 10 come misura di ferri io di fatti utilizzato lotto a me va bene lotto poi vedete voi se volete usare il nuovo 10 come film come come ferri decidete poi magari man mano che andate avanti ok per chi non ha ecco vi dico anche il prezzo ecco il prezzo attenzione e se quando vi dico i prezzi prezzo di oggi e due gomitoloni quindi con questo riuscite a fare o due colli o il collo il cappuccio ok quindi diventa un bel regalo no di natale fatto poi da voi quindi due di questi gomitoloni perché vi arrivano così due di questi gomitoloni nella casa madre costano 7 euro e venti più le spese di spedizione ok 7 euro e venti costano praticamente è un regalo che fate con solo 1 3 ore e 53 70 circa uno soltanto e fate questo collo con praticamente un lotto riuscite a fare due regali cioè mi sembra veramente una cosa carinissima e un'altra cosa vi volevo far vedere perché nel caso in cui se vi sembrasse troppo lungo questo pellicciotto vi mostro invece il panda che è sempre un pellicciotto ma più corto eccomi col panda allora innanzitutto vi spiego questo il panda anche lui è un microfibra al cento per cento ci sono quattro gomitoli da 100 grammi anziché due da 200 del lam kim questo avete quattro gomitoli da 100 grammi quindi il totale in un lotto sono 400 grammi di queste 400 grammi anche del panda ok io ho scelto il color lilla vabbè è una mia è una mia è una mia scelta è uno dei colori che piace a me ma quello che mi interessa farvi sapere farvi vedere è questo come notate questo è più questo è più lungo e questo è più corto lo vedete giusto questo è proprio più lungo e questo è più corto quindi chi non sa lavorare ai ferri con questo riesce meglio a lavorarlo ad uncinetto quindi può fare 30 maglie anziché qui io ho utilizzato per esempio 18 maglie ok la mia amica sofia ne ha fatto uno proprio con il panda e ha messo su 30 maglie poi è andata avanti per la misura che le voleva e poi l'ha chiuso come ho fatto io ok in questa maniera ed è venuto un collo più adesso ve lo sto facendo e mini è un collo più soft ok meno meno spesso come come pelo quindi magari per un bambino o per chi non ama il pellicciotto troppo troppo lungo allora io consiglierei il panda guardate che meraviglia immaginatelo in grande è solo fatto per un neonato era solo una prova questa ve lo faccio vedere anche così perché magari riuscite a capirlo meglio aspettate eccolo qua qui si vede meglio allora questo il panda e questo è l'ampkin vedete quanto è lungo questo e quanto è corto questo bellissimi entrambi posso dire che sono identici come filati se non fosse per la dimensione per la lunghezza del pelo ok questo è il pelo corto e questo è il pelo quasi triplo oserei dire quasi esatto triplo come lunghezza vedete qui lo vedete meglio così conoscete anche la diversità tra un filato pelliccioso e l'altro ok quindi con il panda riuscite a fare la stessa cosa ma con un risultato molto più soft più easy e questo lo potete utilizzare potete anche lavorarlo con l'uncinetto questo qui anche volendo si può utilizzare l'uncinetto per lavorare questo però l'unico problematica è che dovete sempre contare sia andata che ritorno le maglie che fate perché si rischiano di perderle perché è difficile proprio da capire dove inserirsi ok con l'uncinetto mentre con i ferri vedete le asole con l'uncinetto no e di conseguenza diventa un piccolo problema secondo me se una volta invece di contare ce la fa qui invece si vedono molto meglio che questo l'ho fatto ad uncinetto quindi vi posso dire che si vedono molto meglio le maglie ok e niente vi faccio vedere l'altro filato altro mi sono dimenticata di dirvi il prezzo del panda quindi 400 grammi di filato panda che questo qui quello più sottile costa 7 euro e 20 all'otto ok quindi 400 grammi di questa meraviglia ok 400 grammi quindi stesso vale lo stesso discorso con 200 grammi riuscite a fare il collo con gli altri 200 grammi riuscite a fare il cappuccio ok e questo è il panda e mi lascio il link sempre sotto proprio questo video io ho voluto provare questo filato ragazze ho voluto provarlo e morbidissimo tra l'altro stavo iniziando a fare una una maglia usato qui l'uncinetto 5 ma sicuramente aumenterò il numero di uncinetto per darvi solamente l'idea dell'effetto che da allora a qui bisogna lavorare innanzitutto qualcosa di molto molto semplice perché l'effetto lo fa già lui ok è proprio un effetto come dire a tutti dei puoi di vari colori che sono poi questo questi pezzettini di filato che vengono fuori vedete lo vedete anche qui lo vedete anche qui di cosa stiamo parlando stiamo parlando di un filato che si chiama bonibon bonibon difatti anche loro vedete consigliano il 45 come uncinetto avete sempre 400 grammi in ogni lotto e abbiamo ogni gomitolo è composto da 100 grammi e 175 metri abbiamo il 50 per cento di poliamide il 40 per cento di premium acrilico il 10 per cento di poliestere allora la morbidezza io non so se riesco a trasmettervela perché è un qualcosa di veramente morbido è proprio morbido deve essere il premium acrilico è già quello che piace a me non so se per chi mi segue lo sanno il premium acrilico è proprio un qualcosa di morbidissimo in più qui abbiamo il poliamide che ovviamente addolcisce ancor di più se è possibile il filato la lavorazione ripeto io l'ho fatta con il numero 5 e mi risulta così io addirittura qui metterei un 5 e mezzo lo vedo benissimo per farci dei poncho anche per delle bambine sciarpe i cappellini alla grande però molto semplice qui fare le lavorazioni ho provato a fare una lavorazione qui non si vede c'è proprio non si vede quindi lavorazioni semplici con un grande risultato perché il risultato e l'effetto lo fa il filato stesso ok vi dico il prezzo di questo allora costa 7 euro e venti ma io vi ho detto 400 grammi in un lotto invece no ci sono 300 grammi in un lotto ok tant'è che io ho presi subito due lotti proprio perché con 300 grammi francamente non è che non so ancora che cosa ci voglio voglio realizzare per un qualcosa di facile sì un qualcosa che vada da solo ok sarà stupendo anche i ferri questo filato quindi sono 300 grammi in un lotto ok 300 grammi in un lotto quindi se avete idea di fare un qualcosa di semplice e veloce senza utilizzare nessun tipo di punto particolare a quel punto con questo il punto lo fa già lui perché è talmente ricco di suo da solo che non serve non serve nient'altro che mandare avanti la lavorazione tipo una bella sciarpa ma anche un poncio è un poncio tipo il poncio tecno il mio poncio tecno fatto anche con questo verrebbe stupendo perché molto facile da fare quel poncio quindi questo lo arricchisce ancor di più proprio per il fatto di avere questi pezzettini di filato che escono fuori vedete come quasi sembra quasi un intarsio proprio nel nello stesso filato intrecciato dentro molto molto bello e particolare anche come filato e ora vorrei mostrarvi il filato meraviglioso che io ho utilizzato per fare uno dei due cardigan perla che vi ho messo in presentazione qui su youtube praticamente è un filato meraviglioso in un lotto qui abbiamo 400 grammi e un color tortora sfumato guardate che colorazione che ha la morbidezza anche nel lavorarlo è veramente tangibile e lo vedete anche voi anche voi le sfumature sono queste ed è il full cord light si lavora con un uncinetto 4 io l'ho lavorato con l'uncinetto 4 e mezzo ma sto facendo adesso una maglia e la sto lavorando proprio col numero 4 in 50 grammi abbiamo 165 metri in 50 grammi e abbiamo il 50 per cento di lana e il 50 per cento acrilico questo dicono essere cammello cammello beige io vi dico a me sembra più un tortora come come colore è vero mostro lavorato perché non chi ha il cardigan perla chi sta lavorando il cardigan perla con questo sa di che cosa sto parlando ma se non avete visto il cardigan perla o non siete nel gruppo quindi non avete visto questo tipo di filato vi faccio vedere il risultato che da guardate che spettacolo di sfumature che ha questo filato questa è una nuova creazione allora questo filato qui tra l'altro volete sapere quanto costa finché c'è finché c'è al momento ci sono 163 lotti quindi con un prezzo di 2 euro e 69 all'otto un lotto è composto da 400 grammi ragazze non perdetelo ce n'erano quando io ho preso il primo lotto che poi ne ho prese altri 4 di lotti dello stesso colore ce n'erano 260 ce n'erano 100 lotti in più ora ci sono 163 lotti finiti i quali non ci sarà più questo filato quindi non perdetelo non perdetelo se vi piace il colore non perdetelo c'è della stessa linea nella stessa linea anzi vi faccio vedere tra l'altro come si vedete non è ritorto e come dire riuscite a sentirlo proprio quanto è morbido non è ritorto ma si lavora che è una bellezza si lavora benissimo ma è regalato ragazzi due euro e 69 finché dura prendetene prendetene metteteli via dello stesso tipo c'è anche il blu il blu però sarà forse per il tipo di colorazione tra l'altro non so se ce ne ancora si ce n'è ancora c'è sia il blu che un colore tipo senape ok a me personalmente sembra quasi diverso ok se voi andate a vedere questo trovate anche il blu stessa composizione stesso tipo di filato stesso tutto ma guardandoli sembrano diversi io comunque l'ho preso perché ragazzi cioè è comunque uno spettacolo anche solo per gli occhi ed è leggermente a qualche screzzatura bianca qui lo noto meno qui lo notate forse di più vedete ecco per esempio qui vedete lo vedo pochissimo pochissimo qui lo vedo molto di più c'è qualche screzzatura bianca vedete quindi da un bellissimo effetto è sempre la mia amica sofia lo sta facendo blu si sta trovando benissimo ed è bellissimo il risultato che sta venendo fuori quindi io l'ho preso anche blu costa 2 euro e 60 cioè ma neanche io l'ho preso punto lo metto via e poi ci farò qualcosa sempre se ce ne saranno ancora di blu quando voi andate a vedere però questo non lo perdete mettetelo nel carrello in ogni caso mettetelo nel carrello consiglio veramente spassionato è veramente spassionato mettetelo nel carrello questo il risultato e questo sarà la nuova creatura che verrà fuori a breve nel sul canale bene e con questo io vi saluto è stato brevissimo ma ci tenevo veramente a mostrarvi innanzitutto cosa non dovevate perdere perché per me sono importanti determinati filati quindi quando io vedo qualcosa di prezioso a mio parere magari anche molto conveniente cerco sempre di di dirvelo ok sempre di dirvelo e poi volevo darvi questa ideuzza che magari chissà qualcuno stava cercando un regalo di natale capite perché non ho fatto il tutorial vero perché è veramente così semplice che sarebbe stato veramente farvi perdere solo del tempo a guardare un tutorial che potete comunque realizzare con le poche spiegazioni che io vi ho vi ho appunto fatto passare quindi spero che per quanto breve vi sia stato utile questo tutorial vi mando un abbraccio e un saluto a tutti quanti a prestissimo col prossimo tutorial Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti